Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia comprendere cosa ha portato al notevole calo del 74% della mortalità nel secolo scorso è di fondamentale importanza. Esattamente ci stiamo riferendo al periodo tra il 1900 e il 1970, epoca significativa presa in esame dallo studio che stiamo per considerare grazie ai commenti del dottor Peter Mayer. Perché comprendere cosa ha portato al drastico calo della mortalità in quegli anni è di importanza capitale? Principalmente perché questo tema è stato cavalcato, e lo è tuttora, per imporre presunti rimedi che invece, come dimostreranno i fatti, per nulla hanno influito. Capirete bene che se viene meno la motivazione per imporre per legge determinati obblighi contro la dignità della persona umana, il re è nudo. È evidente a tutti che non vi è più alcuna motivazione valida. Diamo la parola ora al dottor Mayer che ci illustrerà questo fantastico studio. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby.